E' l'unica Accademia del Centro Italia ad avere un corso specifico. E' stato inaugurato infatti il corso della laurea triennale in fotografia all'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Si tratta di una nuova offerta didattica che pone al centro dell'insegnamento proprio la fotografia. L'idea di istituire un nuovo triennio specifico in fotografia è nata dal forte interesse dimostrato proprio da parte dei ragazzi nei confronti della cosiddetta nuova arte. Fino ad oggi l'offerta formativa a livello accademico prevedeva l'insegnamento della fotografia ma includendolo in piani di studio più ampi relegando la materia di fatto ad un solo esame. Pilastri del corso saranno i professori Stefano Cesaroni che tratterà della fotografia di moda e del ritratto. Il professor Danilo Balducci che si occuperà del fotoreportage con al suo attivo numerosi premi nell'ambito della fotografia tra cui per due anni di seguito il prestigioso FIIPA Awards. La fotografia dell'arte sarà poi curata dalla professoressa Barbara Drudi storica dell'arte da sempre vicina al mondo della fotografia e curatrice di prestigiose mostre e archivi fotografici di livello internazionale. Un corso in cui finalmente la fotografia è trattata come produttrice di arte non al servizio di altre arti. È un corso che si rivolge a chi vorrà diventare fotografo a chi vorrà nella vita occuparsi di fotografia. Fino a questo momento l'offerta formativa prevedeva ovviamente l'insegnamento della fotografia ma come appunto materia propedeutica ad altre materie restringendo il campo di fatto ad un solo esame. Qui invece avremo l'insegnamento della fotografia previsto su tre annualità sarà l'insegnamento con il maggior numero di ore a disposizione. A sostegno della materia fotografia avremo tantissime materie tecniche come la post-produzione fotografica come la stampa in digitale come la creazione di siti web e tante altre materie tecniche appunto a sostegno di questo più tante materie teoriche che amplieranno il panorama culturale che è fondamentale che un fotografo abbia per poter affinare un proprio gusto e arrivare alla definizione di un proprio stile. Grazie a tutti